PILAIN FLOROLEAR Un filo che ha fatto la storia della PILAIN. È un monofilo rivestito di fluorocarbon e questo consente al filo di avere una maggiore impermeabilità e una maggiore resistenza alle abrasioni. Questo filo lo utilizzo principalmente per pescare a crank bite, a jerk bite, a tutte esche con l'ancorina, anche a galla con un VTD. È un filo che non tradisce mai le aspettative in quanto essendo un misto tra nylon e fluorocarbon si lancia molto bene, facciamo dei lanci molto lunghi, e però al tempo stesso il fluorocarbon gli dà quella piccola rigidità in più rispetto a un nylon normale che ti consente una ferrata sempre pronta e decisa. Anche questo è un filo indispensabile sia per il bus fishing ma non solo, anche per tutte le altre tecniche di pesca.